La vita è piena di incertezze e sfide. Ciò che ci definisce sono i momenti che scegliamo di affrontare. Perché è facendo il grande passo che raggiungiamo nuove vette. Ed è usando crescere che costruiamo il nostro carattere. Che conosciamo meglio noi stessi. Sei pronto a liberare il tuo potenziale? Fai un passo coraggioso verso il tuo futuro. Unisciti al nostro programma BEM.